Per noi è importante avere clienti che si fanno promotori dei valori del vetro e scelgono di comunicarlo attraverso il simbolo ideato dalla Federazione Europea dei produttori del packaging del vetro. 32 beer di Birrai è un birrificio artigianale indipendente che produce birra di alta qualità utilizzando anche materie prime 100% italiane coltivate in zone di litrofero stabilimento. La qualità delle birre prodotte da 32 beer di Birrai è dimostrata anche da importanti riconoscimenti ottenuti a livello nazionale. La bottiglia che Veraglia ha proposto per la nostra birra è una bottiglia elegante e minima già inclusiva per la scritta in Brai diventa ancora più speciale grazie all'inserimento di Glass Hallmark. Noi inneschiamo il processo virtuoso ed è fondamentale per noi che le aziende ci seguano in questo percorso. Dopo anni di attività volevamo dimostrare il nostro amore per il vetro e la sua sostenibilità. Abbiamo trovato in Veraglia un partner attento e proattivo che ci ha proposto proprio quello che noi cercavamo. Noi inneschiamo il nostro amore per il vetro e per il vetro e per il vetro.